Adesso proviamo a prendere questi fogli, vediamo quando si trovano. Ok, questi vanno tolti, una limaccia, questi si mangiano i funghi, vedete? Questa è stata un'alimaccia, la troppa umidità, questi li mettiamo qui, così, questi li facciamo pure, il pane va strappato, il fungo va strappato, questo è mangiato, via. E qui stanno facciando gli altri, ok.